Ciao Pippo, bentornato su questo palco. Fai la benedizione al pubblico. La benedizione, Pippo, la benedizione. Pippo, tu che dedichi poesia a tutti noi, con affetto, con tutto il tuo bene, stasera, a quasi 24 ore dal tuo primo intervento, così come ha voluto Francesco, cosa ci dedicherai? Ecco, ho incontrato delle persone che siamo in contatto via e-mail, come si dice ora. Dice Pippo, sai, l'ho letta l'altro giorno, però sarebbe bene se la recitassi tu. Ho pensato di recitare una poesia dedicata a una mamma, ma in particolar modo per la mamma che sta dentro, l'ha messa dietro la porta, e il suo figlio. Dal titolo la mamma, dunque? No. E come si intitola? Il titolo è per mamma Pina. Per mamma Pina. In te sbocciò la vita, bocciolo fui d'un fiore, col cuore mi hai innazziato versando tanto amore. Di nome mi hai chiamato come nostro signore. Su, asciuga le tue lacrime, dai gioia al tuo dolore. Qualcuno mi ha reciso, ma non spense il mio sorriso. Volai in cielo e i petali profumano il paradiso. Come Maria tu mamma, rassegnati nel cuore. Hai coltivato un fiore, donandola a chi è mamma di Cristo, Salvatore. Complimenti e applauso. Che è successo?